Amici del soft e libero open source, benvenuti o bentornati in questa 139esima puntata del podcast di Marcos Box. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del soft e libero open source. In questo caso dalle ultime due settimane c'è stato un nuovo ritardo nella pubblicazione della puntata ma c'erano pochi argomenti, poi ci sono stati una serie di problemi di salute in famiglia, fortunatamente, che si sono conclusi bene, si sono risolti proprio giusto oggi che sto registrando questa puntata del podcast. E quindi la puntata della settimana scorsa è saltata a più e pari, non me ne vogliate. Però si sa, la famiglia viene prima di tutto. Questa puntata sarà dedicata principalmente a parlare di distribuzioni Linux, perché nelle ultime due settimane ci sono stati grandi novità, grandi novità che vedremo poi nei prossimi mesi. Vi ricordate a fine dicembre vi avevo parlato, vi avevo postato sul blog, su Marcos Box e ve ne avevo parlato anche nella puntata del podcast, un articolo riguardante Unity 7.7, la prossima versione del re di vivo Unity Desktop, che vedremo su Ubuntu 23.04. Ed è il fatto che gli sviluppatori erano riusciti a realizzare una versione di Unity 7 senza compits. Beh, questa versione si è concretizzata e verrà rilasciata. Accanto a Unity 7.7 verrà dunque rilasciata una nuova versione di Unity senza compits, che è stata ribattezzata Unity X. La notizia è stata postata direttamente da Rudra Saraswat, spero di averlo pronunciato bene, di sicuro, no, troppo errore in mezzo, che è lo sviluppatore principale di Unity Desktop, nonché di Ubuntu Unity. Ha postato la notizia dell'innuncio di questa nuova versione di Unity e ha anche rilasciato il primo beta test pubblico di Unity X. Unity X, questo è il nome, dicevo, che è stato scelto per questa versione di Unity senza compits. Unity X conserva tutte e quante le varie funzionalità di Unity 7, offrendo allo stesso tempo maggiori possibilità di personalizzazione, per esempio come la possibilità di scegliere un gestore finestra a nostra scelta, la possibilità di sostituire o rimuovere il pannello, ci sarà il supporto a Wyland che è molto importante, ma ci sono tante tante cose interessanti. Potete installare Unity X seguendo le istruzioni presenti sul link che vi ho postato nell'articolo su Marcos Box. E se andate a vedere, l'HUD è basato su quello che avevamo visto già negli ultimi mock-up di Unity. Lo sviluppo è a buon punto, c'è un centro di controllo che è stato completamente riscritto per essere completibile. Ci sono, ovviamente c'è il supporto agli indicatori, e sono stati potenziati gli indicatori su questa versione di Unity. Andatevi a vedere gli screenshot che sono stati postati su Marcos Box. Sì, allora, la domanda è Avevamo bisogno di un nuovo desktop environment basato su un desktop environment morto e porre di vivo? Non lo so, molti di voi diranno no, e non mi sento di dargli torto a molti di voi che sono contrari a questi esperimenti, però è il mondo di Linux, sapete bene come funziona. I progetti nascono, i progetti muoiono, i progetti vengono forcati, i progetti si evolvono, a volte vengono riportati in vita, e ognuno è libero di fare quello che vuole. Vedremo come verrà mantenuta questa versione di Unity, se sarà apprezzata dal grande pubblico. C'è da dire soltanto che il 12enne, se non ricordo male, 12-13 anni, Rudra, che è lo sviluppatore principale di Unity, di questa nuova versione di Unity, sta facendo grandico. Secondo me, tempo o qualche anno di gavetta ancora, nella programmazione, e potrà fare grandi cose. Almeno, secondo me, potrà anche aspirare ad ottenere uno di quei lavori ultra pagati nel mondo dell'informatica. C'è tante idee, è tanto capace, e fa piacere, fa piacere che ci siano queste nuove leve in grado di plasmare, in grado di fare questi nuovi progetti, di cancellare questi nuovi progetti. Gran bel lavoro. Su Unity X mi riservo il diritto di provarlo in futuro, per vedere come andrà. Però, dai primi screenshot, sembra anche carino, perché la nuova Dash che si ispira agli ultimi mock-up di Unity sembra fatta bene. Il concetto alla base di Unity era interessante all'epoca, era apprezzato da moltissime persone, me compreso. Purtroppo, Canonical ha deciso di buttare tutto a due ortiche, e sapete come è andata a finire. Vabbè, comunque, vedremo. Se sono rose fioriranno, se sono cachi, avete capito, insomma. Nella scorsa puntata del podcast di Marcos Box vi avevo annunciato l'imminente arrivo di un articolo con relativa intervista riguardante Vanigo S, quella che io ho definito la più interessante derivata di Ubuntu degli ultimi anni, e confermo questa impressione. Che cos'è Vanigo S? Vanigo S è una nuova derivata di Ubuntu, una nuova distribuzione realizzata da Mirko Brombin. Mirko Brombin molti di voi già lo conosceranno perché è un famoso sviluppatore italiano che negli ultimi anni è salito alla ribalta grazie a un progetto molto interessante chiamato Botless, che è un software che consente di eseguire facilmente applicazioni Windows su Linux. E fra l'altro anche l'autore del bot che utilizzo all'interno del canale Telegram di Marcos Box per moderare l'ingresso di eventuali account spam all'interno del canale Telegram. Vanigo S in che cosa si differenzia rispetto alle altre distribuzioni? Vanigo S si differenzia rispetto alle altre distribuzioni perché offre al suo interno una serie di tecnologie uniche che consentono di rendere la distro una distro stabile, una distro sicura, una distro che si focalizza sugli utenti ed era una distro che molti utenti che apprezzano GNOME di sicuro apprezzeranno perché? Perché rispetto alla distribuzione alla quale deriva offre un ambiente GNOME puro vanilla sempre aggiornato nella fattispecie l'ultima versione è disponibile con l'ultima versione di GNOME 43 quindi aggiornato alla mainstream a GNOME l'unica cosa che fanno praticamente è mettere un set di wallpaper differenti insomma in tema per dare un'unica nota di caratterizzazione all'adistro però per il resto appunto come vi dicevo è GNOME puro introduce questa distribuzione anche un gestore di pacchetti chiamato APX che è pensato per essere semplice da usare ma anche potente e che consente il supporto dell'installazione di pacchetti da più fonti senza alterare i file system di root perché è interessante perché che ne so volete installare un'applicazione presente nel repository di Ubuntu che è per impostazione predefinita il repository principale della distra potete farlo ma potete installare applicazioni anche da altre fonti come da Alpine Linux da Aure da DNF di Fedora quindi è praticamente offre la possibilità di installare pacchetti da da diverse fonti in modo tale da sgregarsi dalla dai repository di Ubuntu sapete bene che magari Ubuntu determinati pacchetti non li aggiorna non li aggiorna perché segue dei cicli di rilasci definiti magari vi interessa avere una versione più aggiornata che trovate nei repository di una delle succitate di distra e potete installarlo il tutto è basato su un sistema di container quindi ogni qualvolta noi andiamo a installare un'applicazione presente da un repository diverso rispetto a quello di Ubuntu beh che ne so trovate verrà creato all'interno della distra un container basato su Fedora Linux appx gestirà i pacchetti derivanti dai repository di nf di Fedora e gli andrà a integrare direttamente nel sistema host però in tutto in maniera containerizzata scusate ci sono troppe r quindi non mi vengo certe parole e quindi tutto isolato tutto senza fare casismo senza sporcare il nutrimento a registro e ovviamente tutte le applicazioni installate da altre fonti vengono comunque aggiunte al menu applicazioni al menu applicazioni del file manager eccetera eccetera quindi sono perfettamente integrate al sistema l'altra caratteristica interessante di Vanigo S è Abirut che è una nuova tecnologia che ci consente di eseguire modifiche al nostro sistema in modo atomico limitando il rischio di rottura del sistema sul blog trovate maggiori approfondimenti al riguardo non mi dilungo troppo in questa parte per non essere noioso praticamente che cosa succede? succede che mettiamo in caso di voler installare un nuovo pacchetto Abirut che cosa fa? va a verificare quale partizione è la partizione root attuale definita A la monterà in monterà un overlay su di essa e eseguirà la transazione se la transazione quindi l'installazione del pacchetto andrà a buon fine l'overlay verrà unito alla partizione derivata cioè B quella nuova partizione root all'avvio successivo il sistema passerà automaticamente alla nuova partizione root che succede se il pacchetto è malformato se c'è qualche errore o quant'altro beh l'overlay creato verrà scartato e il sistema si avvierà normalmente con la partizione principale quindi senza alcuna modifica a nessuna delle partizioni è un sistema che va a migliorare la stabilità e la sicurezza del sistema e l'abbiamo visto anche in altre distribuzioni abbiamo visto se non ricordo male su Fedora Silver Blue questo concetto ed è un concetto interessante gli aggiornamenti poi di Vanilla OS sono gestiti da un tool che va a verificare periodicamente la presenza di aggiornamenti in caso di un aggiornamento provvederà a scaricarlo e a instalarlo in background soltanto quando il dispositivo non è un sovraccarico di risorse mi spiego meglio Vanilla System Operator VSO che è questo tool va a verificare va a fare una serie di determinati controlli va a vedere quanta risorse sono disponibili a livello di CPU e di RAM se la connessione lo consente quanto è lo stato della batteria e in base a questo regolerà in automatico l'installazione dei pacchetti quindi anche in questo caso l'utente non trova a fare niente si troverà ad avere aggiornamenti soltanto quando il sistema non è molto utilizzato quindi se siete sviluppatori o quant'altro e non volete la rottura di avere aggiornamenti in automatico sulla vostra distro in background nel momento meno opportuno beh questo sistema penserà a fare la magia come vi dicevo di questa distribuzione ne ho parlato in due articoli su Marcosbox il primo che è una panoramica su Vanilla OS e il secondo è una intervista fatta a Mirko Brombin il creatore di questa distribuzione nella quale Mirko ci sfiega un po' di retroscena di come è nata l'idea di lanciare questo progetto il perché sono state fatte alcune scelte come ad esempio utilizzare Ubuntu come base Gnome come desktop environment quali sono i suoi piani futuri per lo sviluppo e soprattutto come farà a sostenere a livello economico il progetto vi invito a leggere entrambi gli articoli e vi invito a lasciare un commento sulle pagine di Marcosbox passiamo adesso a parlare di una vecchia derivata di Ubuntu vecchia perché oramai è in giro da diverso tempo che è molto apprezzata anche da diversi lettori del blog perché lo so che molti di voi la utilizzano sto parlando del rilascio di Elementario S7 nome in codice Horus la nuova versione di Elementario S che arriva dopo un anno dal precedente rilascio quindi c'è stato un anno di sviluppo nel quale lo sviluppatore principale Daniel Forè si è concentrato principalmente su tre aspetti aiutarci a ottenere le applicazioni in cui abbiamo bisogno potenziare la distribuzione con nuove funzionalità e le impostazioni e sviluppare la piattaforma di Elementario S dedicata agli sviluppatori su Marcosbox trovate un articolo dedicato nel quale vi illustro quali sono tutte le novità di questa nuova versione come vi dicevo si è concentrato principalmente sulla gestione dell'installazione delle applicazioni quindi l'app center ha avuto un restyling viene data più enfasi alla pagina dedicata alle applicazioni che noi andiamo a installare viene data maggior maggior importanza anche alle applicazioni in modo in cui vengono aggiornate gli aggiornamenti di sistema adesso vengono installate offline e gli aggiornamenti dell'applicazione possono avvenire automaticamente è stato migliorato il sistema di side load dell'applicazione di negozi alternativi quindi la possibilità di installare applicazioni da store alternativi come Flattab è stata aggiornata GNOME Web alla versione 43 ultima versione del browser web di GNOME che include il supporto per la creazione di web apps quindi adesso ElementariOS supporta le web apps grazie appunto a questa nuova versione di GNOME Web le web apps che sono create con questa nuova versione di GNOME Web possono avere le proprie impostazioni possono avere i controlli per la privacy e possono persino essere eseguite in background quindi cosa molto importante c'è stato poi il potenziamento dell'applicazione feedback è stato ridefinito anche per quanto riguarda il programma di installazione con maggior enfasi sulle schermate è stata anche aggiornata l'applicazione mail che adesso sfoggia un design più moderno e piatto è stato modificato anche i comportamenti predefiniti di files i file manager sono state migliorate le impostazioni per le stampanti sono state migliorate anche per quanto riguarda la gestione musicale quindi con una versione di music il programma per il produttore multimediale per la musica che adesso ha nuove nuove funzionalità ha anche il supporto un supporto migliore per la lettura dei metadati dei brani e quant'altro sono state fatte poi alcune modifiche nelle impostazioni di sistema è stata migliorata la piattaforma di sviluppo per gli sviluppatori che decidono di integrare di sviluppare applicazioni per elementari os che si integrano perfettamente all'interno di elementari os perché sapete elementari os ha questa caratteristica di offrire gli sviluppatori una serie di strumenti volti a realizzare applicazioni che siano perfettamente compatibili integrate all'interno di elementari os da questo punto di vista elementari os fa un grandissimo lavoro ed è anche un piacere per gli occhi guardare un elementari os con applicazioni tutte perfettamente integrate i dolori vengono dopo quando installate applicazioni pensate per altri per altri desktop e macromed e quant'altro vabbè ma qui un discorso a parte e sono stati poi fatti alcune anzi sono stati fatti degli aggiornamenti per quanto riguarda tutte le icone delle applicazioni che sono state ridisegnate per essere basate adesso su una nuova forma più uniforme vabbè andatevi a leggere l'articolo che trovate sulle pagine di marcosbox con tutti quanti gli screenshot del caso passiamo adesso a parlare di una distribuzione che non è stata rilasciata in queste settimane ma che verrà rilasciata nei prossimi mesi sto parlando di linux mint 21.2 la prossima point legacy di linux mint che verrà rilasciata il prossimo giugno 2023 sapete bene che cosa succede ogni fine mese all'interno del blog di linux mint viene pubblicato da parte di clement che è il fondatore nonché esecutore principale di linux mint dicevo viene pubblicato un recappone con tutte quante le ultime novità dal mondo di linux mint e vengono date alcune anticipazioni sulla prossima versione della distribuzione sono state date alcune informazioni questo mese riguardanti linux mint 21.2 nome in codice victoria questo è il nome che è stato scelto per questa nuova versione la uscita di linux mint 21.2 victoria è previsto per giugno 2023 la fine di giugno come al solito verrà rilasciata nei tre ambienti cinnamon mate e xfse e per l'occasione xfse verrà aggiornata alla versione 4.18 quali sono le principali novità che vedremo su questa versione sono state fatte alcune anticipazioni interessanti che vanno a rimare a rifinire la distribuzione per primis sono state fatte in primis sono state fatte degli miglioramenti in slick reader che si occupa della schermata di accesso che adesso ha ottenuto il supporto per più layout di tastiera all'interno della schermata di accesso adesso ci sarà un indicatore situato nell'angolo superiore a destra o in basso secondo dei casi che ci consenerà di scegliere un layout differente quindi anche questa è una cosa interessante per chi ha magari anche tastiere in lingua diversa come il sottoscritto che attualmente è passata una tastiera internazionale la navigazione della tastiera è stata migliorata adesso i tasti freccia possono essere utilizzati per modificare la password che si sta digitando all'euglia finalmente una cosa del genere quando è stata aggiunta l'occhietto quello per sbirciare la password che state mettendo insomma che è utile è stato fatto poi per quanto riguarda comune a tutte e quante le distribuzioni di linuxpint un aggiornamento di pix che originariamente era basato su gtamb 3.2.8 e che adesso è stato ribasato su gtamb 3.12.2 arriva quindi una nuova interfaccia utente per gtamb con una barra di intestazione pulsanti a posto del barra degli strumenti dei menu è leggermente meno facile meno intuitivo da scoprire per i nuovi utenti però ad aspetto comunque più pulito e con questo sembra comunque intuitiva sono tante le modifiche che sono state apportate a Pix grazie a questo rebase ci sono praticamente quasi se non ricordo male 168 nuove funzionalità che sono state che sono state aggiunte ovviamente il team di Linux Mint non si limita soltanto a effettuare un rebase del codice ma va ad includere anche una serie di di modifiche che vanno a integrare al meglio poi Pix all'interno dei tre desktop environment che vengono utilizzati su Linux Mint quindi Cinema, Mata e XFCE l'altra novità che ci è stata spoilerata in questo articolo sul blog di Linux Mint riguarda l'aggiunta del pieno supporto per i file immagine EIF e AVIF all'interno di Linux Mint 21.2 infine ci è stato annunciato che anche i documenti di Adobe Illustrator saranno supportati correttamente da XReader che è il visualizzatore di documenti di Linux Mint quindi piccole aggiunte come sapete bene Linux Mint ci tiene a fare a non stravolgere il creato ma va a rimare qualità va a aggiungere qualità ogni volta qualche cosina qualche piccola goccia che cercando di non di non aggredire gli utenti con novità moleste ma entregando novità utili senza stravolgere il workflow e quant'altro queste sono le prime indiscrezioni da Linux Mint 21.2 speriamo che il prossimo mese ci verrà data qualche altra informazione interessante arriverà magari qualche altra qualche altra ciccia qualche altra aggiornamento di qualche altra applicazione che magari necessita di upgrade anche System76 torna ad aggiornarci sullo sviluppo della sua distribuzione del suo ambiente desktop e torna con un nuovo articolo sullo sviluppo di Cosmic Day il nuovo desktop environment basato su Rust e il toolkit ISED che vedremo prossimamente su PopOS sapete bene che il team di System76 che ha deciso che sviluppa che sviluppa PopOS e che vende hardware perché è un produttore di hardware con Linux ha deciso di ripasare la sua interfaccia utente il suo sulla serie di estensioni diciamo così che attualmente utilizza per personalizzare il GNOME sulla propria distribuzione su PopOS e ha deciso di riscrivere tutto in questo ambiente di scrivere un nuovo ambiente basato su Rust e toolkit ISED sta centellinando le informazioni su questa nuova versione un po' alla volta e un po' alla volta stanno arrivando degli screenshot che mostrano quello che stanno facendo di Torre Quinte e nell'ultimo articolo compasso sul blog di System76 sono stati mostrati una serie di screenshot che vanno a mostrare che cosa sta accadendo all'interfaccia utente che cosa sta accadendo alle varie impostazioni di sistema con le nuove funzionalità i lavori che stanno eseguendo per quanto riguarda i profili di alimentazione le funzionalità che stanno aggiungendo ad esempio anche alla scheda relativa alle impostazioni grafiche quindi la possibilità come stanno vedendo loro la possibilità di gestire il cambio di sfondi e quant'altro la gestione di più display la gestione sonora che con impostazioni audio molto avanzate andate a vedere lo screenshot che sono state postate stanno lavorando poi a cose tipo il rendering dinamico e il supporto a X Stanno lavorando bene da quel che sto vedendo stanno facendo diversi studi per realizzare un'interfaccia grafica come si deve i concetti che stanno applicando per i mock-up sono interessanti i testing che stanno facendo in vivo sulle persone per quanto riguarda la realizzazione delle varie interfacce e quant'altro stanno dando i loro futti e sembrano davvero di star facendo delle cose come si deve non diciamo stanno facendo delle cose professionali ecco questo è il termine esatto l'unica cosa che secondo me dovrebbero rivedere un po' il tema è l'accostamento dei colori che allora io non so voi ma io ogni volta che vedo quell'azzurrino verdino verdono non lo so quel colore quello azzurro insomma che utilizzano loro celeste anzi mi dicono da reggere si chiama celeste perché poi non è un celeste un celeste è verdonio sembra un vecchio pigiama che avevo io che mi faceva mi faceva schifo ogni volta che lo indossavo e con le schermate scure no non si può vedere ecco come si dice in gergo my to send i miei due centesimi aveva discussione lavorate se mi state ascoltando cosa improbabile ma cercate di lavorare anche sul tema perché il tema attuale è assolutamente orribile non so che cosa che quali con quali occhi state guardando lo state sviluppando su quali monitor come calibrati monitor che state utilizzando per realizzare il tema cioè per realizzare l'accostamento di contro e finirò a capire perché io sul monitor mio sono praticamente orribili comunque ne vedremo ne vedremo delle belle quasi sicuramente il prossimo mese arriverà qualche altro qualche altrante prima dal team di System76 vedremo poi a quel punto che cosa hanno aggiunto ora adesso chiudiamo finalmente questa lunga parte dedicata ai sistemi operativi e parliamo di notizie sparse da Microsoft e Libre Open Source iniziamo iniziamo questa seconda parte parlando del nuovo articolo pubblicato dal buon Luca dedicato ai videogames Open Source questa volta si è dedicato il nostro caro Luca ai giochi quelli casual quelli giochi poco impegnativi utilizzati per di più come riempitempo di brevi pause andatevi a leggere l'articolo e lasciate un commento fatemi sapere se vi piace se ci avete giocato e se li amate anche voi questo tipo di giochi altra notizia interessante è il rilascio della versione beta di KDE Plasma 5.27 che finalmente va ad aggiungere il tagging delle finestre questa versione beta è ovviamente rivolta ai beta tester quindi beta tester zigupatori cacciatori di bug insomma tutti quegli utenti in grado di non spaventarsi per la comparsa di bug e in grado anche di contribuire a risolvere i bug dell'ultimo minuto segnalandoli magari contribuendo attivamente alla risoluzione dei bug vi ricordo che il rilascio della versione stabile di KDE Plasma 5.27 avverrà il prossimo 14 febbraio quali sono le novità che vedremo su KDE Plasma 5.27 beh abbiamo Plasma Welcome che similmente a quanto visto su altri desktop è un nuovo tool che consente di eseguire le operazioni iniziali di configurazione come la connessione di tutti gli account online e quant'altro andrebbe rivista a mio avviso disegniamo adesso avviso l'interfaccia utente di Plasma Welcome perché i soliti pulsanti buttati lì a caso all'interno dell'interfaccia utente che vediamo su KDE io amo KDE lo sapete Capitan Kubuntu è il mio secondo nome però in KDE ancora non hanno risolto il problema di dare un senso grafico al Dexopembarium di armonizzare e quant'altro i pulsanti siamo sempre buttati in grado così c'è un padding anomalo e abnorme vabbè speriamo che in futuro riusciranno a render più omogeneo il tutto diciamo parliamo delle novità di KDE Plasma 5.27 di questa vita per venire incontro agli utenti che utilizzano applicazioni in formato flatpack nella impostazione di sistema adesso è stato aggiunto un nuovo modulo che serve per controllare facilmente le autorizzazioni da poter concedere le applicazioni installate nel formato flatpack è stata migliorata il widget della configurazione dello schermo a meglio è stato riscritto è stato fatto un nuovo widget per la configurazione dello schermo che adesso appare nella barra delle applicazioni per l'impostazione predefinita quando abbiamo più monitor collegati ed è davvero interessante poi ci sono come vi dicevo in apertura c'è finalmente un sistema di tiling per Kwind ed è secondo me la novità più interessante che vedremo su KDE Plasma 5.17 il sistema di tiling è iniziale embrionale non ha nulla a che vedere con sistemi di tiling avanzati che abbiamo visto su altri sistemi operativi fatemelo dire qui lo dico e qui lo nego voglio il mio avvocato in caso di di accuse voglio chiamo subito un avvocato ma chiamate cercatemi un avvocato per quello che sto per dire a me secondo il mio avviso il miglior sistema di tiling è quello che è stato introdotto sull'ultima versione di Windows 11 e secondo me è quello che sperando che non ci siano brevetti al riguardo è quello che dovrebbero cercare di imitare quelli di KDE premesso sperando sempre che non ci siano brevetti comunque finalmente è una cosa nuova che abbiamo su KDE quindi o meglio su KWin speriamo che si evolva per renderlo più carino esteticamente più semplice da utilizzare quant'altro nelle prossime versioni e comunque ripeto ben venga questo sistema di tiling di base delle finestre che era una cosa che aspettavo io con ansia e immagino anche molti di voi all'ascolto su Marcosbox trovate una serie di screenshot che vi fanno vedere l'impostazione di dettagli come funzionano i layout rapidi però sembra il semplice questo discorso che vi parlavo prima dei dei pussanti messi un po' così stavo rivedendo adesso mentre stavo parlando con voi come sono state le posizioni dei pussanti per quanto riguarda le impostazioni dei tiling buttati così con i rettanguini madonna mia è una cosa orribile dal punto di vista estetico speriamo spero io confido molto nella prossima versione di KDE che riesca a migliorare migliorare l'interfaccia grafica di KDE perché così fa molto triste KDE è bello è stabile è leggero è funzionale ma deve lavorare molto sull'interfaccia grafica torniamo adesso a parlare nuovamente di Ubuntu Pro l'abbonamento completo di Canonical per la sicurezza del open source e la conformità così come viene pubblicizzato che cos'è Ubuntu Pro Ubuntu Pro è un abbonamento che estende la copertura decennale di Canonical per la sicurezza e il supporto tecnico non solo ai pacchetti del sistema operativo principale quindi i pacchetti base ma anche ad altri 23.000 pacchetti quindi sta parlando sia di applicazioni che librerie è l'ideale per le organizzazioni che desiderano migliorare la propria posizione di sicurezza non solo per i repositori principali di Ubuntu ma anche per migliaia di pacchetti toolchain open source Ubuntu Pro è un servizio che copre tutte le LTS a partire da Ubuntu LTS 16.04 quindi stiamo parlando di versioni di Ubuntu uscite nel 2016 adesso siamo nel 2023 quindi è uno sforzo non indifferente quello che Canonical sta facendo per poter offrire aggiornamenti di sicurezza per versioni molto vecchie di Ubuntu per 10 anni ed è un servizio a pagamento che ha anche dei costi che non sono nemmeno più tanto elevati perché si parla di 25 dollari all'anno per le workstation e 500 dollari all'anno per i server la sottoscrizione a questo tipo di abbonamento consente non solo di avere come vi dicevo prima aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico per pacchetti e sistema operativo ma anche per esempio il live patch cioè la possibilità di correggere vulnerabilità critica ad alta gravità del kernel in fase di esecuzione per ridurre al minimo la necessità di riavvino pianificati del parco macchine Ubuntu quindi è un servizio molto utile per tutti gli utenti aziendali qual è la particolarità poi di Ubuntu Pro è che Canonica ha deciso di fare un regalo anche agli utenti casalinghi perché Ubuntu Pro è stato reso gratuito per uso personale quindi lo possiamo utilizzare anche per le nostre installazioni ma è stato reso gratuito anche per l'utilizzo commerciale su piccola scala per un massimo di 5 macchine quindi se siete una piccola azienda e avete fino a 5 macchine potete usufruire dei servizi di questo servizio di Canonical in modo totalmente gratuito per poter usufruire del servizio di Ubuntu Pro vi basterà solamente utilizzare il vostro account Ubuntu One e collegarvi al sito opposito e richiedere un token per poter utilizzare quindi l'account Ubuntu One se ne avete uno già potete utilizzare già quello vecchio vi ricordate quando veniva utilizzato anche per altre cose all'epoca Canonical offriva anche un servizio di cloud di archiviazione di documenti e quant'altro se siete vecchi utenti come me di sicuro avete un account Ubuntu One oppure potete creare un account totalmente gratuito da zero quindi è un servizio interessante e vi fa capire come Canonical oramai pensa soltanto al settore al settore quello aziendale e vi dico anche un'altra cosa dovrebbe dovrebbe quotarsi in borsa fra poco Canonical a meno queste sono le ultime indiscrezioni perché stanno procedendo per pubblicare un'offerta pubblica di acquisto vedremo che cosa bocca in pentola vedremo poi se Canonical verrà acquistata come dicono alcune maglilingue da qualche big dell'informatica della concorrenza e concludiamo questa puntata di podcast di marcosbox con una notizia riguardante la morte di google stadia sapete che google ha deciso di uccidere il suo progetto l'ennesimo progetto di google che viene ucciso fortunatamente a questo giro molto anzi che poi non è fortunatamente molto probabilmente l'avrà fatto per evitare cause in territorio statunitense da parte di utenti quindi class action varia questa volta google ha deciso di fare diversi regali a tutti quanti gli utenti che avevano utilizzato il servizio di google stadia come ben saprete ha provveduto a fare un rimborso per chi aveva acquistato il ecco cosa ho trovato sul web e vedete come si accende il disgraziato ci aveva provveduto a effettuare un rimborso ma che cosa ha cercato giusto per fare lì ha cercato cose senza senso non ha cercato cose inerenti a google stadia dicevo google ha deciso di fare diversi regali agli utenti che hanno utilizzato il servizio di google stadia ha dato un rimborso a chi aveva acquistato il bundle crumbcast ultra più controller dal sito ufficiale io ero una di quelle persone che aveva acquistato all'epoca il bundle mi sembra che eravamo quasi in periodo di pandemia avevo preso poi quello con il bundle che dava cyberpunk tra parentesi cyberpunk non l'ho mai finito quel cavo di gioco era buggato faceva schifo anche su su stadia ha deciso di rimborsare il condo e ha deciso infine qualche giorno fa di fare un ulteriore regalo e ha deciso di rilasciare un aggiornamento che è possibile installare tramite un semplice cavo usb e google chrome che consente di attivare la modalità bluetooth sul controller di google stadia e ovviamente io ho provveduto a pubblicare un articolo sulle pagine di marcosbox che spiega come attivare questa modalità e ho provato praticamente in tempo zero a attivare la modalità bluetooth quindi ad aggiornare il firmware del controller ovviamente anche nella modalità bluetooth restano tutti quanti problemi di compatibilità che noi eravamo già abituati ad avere con il controller di google stadia a quali problemi di compatibilità mi riferisco al fatto che viene garantita la compatibilità soltanto con i giochi installati tramite steam più qualche altra piattaforma di terze parti epic non funziona quindi per poter utilizzare il controller di stadia con epic dovete aggiungere l'epic launcher ai giochi nella libreria di steam e bypassare o utilizzare quello come ponte la stessa cosa vale per altre piattaforme tipo quella di blizzard anche per quando riguarda butternet dovrete aggiungere il gioco alla libreria di steam dovete aggiungere butternet alla libreria di steam e lanciare i giochi da lì tramite il medesimo trucco è possibile giocare anche i giochi presenti sul catalogo di gog quindi come al solito aggiungete da steam il gog launcher avviate tutto da lì non funziona continua a non funzionare per i giochi presenti sul launcher di rockstar l'ho aggiornato l'ho aggiunto a steam il launcher di rockstar l'ho aggiunto anche il gta il launcher di rockstar ma non se ne è fotta niente non si vuole partire quindi è un controller che funziona a metà un falco a metà fortunatamente meno male che grazie a questo trucchetto di steam è possibile comunque abilitarlo per altri per altri per altri launcher peccato peccato per il servizio di google study era un servizio interessante google non l'ha mai sponsorizzato come si deve non l'ha mai supportato come si deve poi aveva delle politiche dei prezzi praticamente assurdo perché vi facevate l'abbonamento però dovete comprare il gioco a prezzo pieno quindi cosa cosa folle vabbè e google si sa c'ha le idee buone le buttare le ortiche distrugge progetti non lo so io temo temo per alcuni servizi di google che verranno distrutti secondo me entro breve in passato avete visto che ha distrutto il lettore feed adesso ha distrutto anche il feed burner perché è entrato in modalità manutenzione quando è entrato in modalità manutenzione sta continuando a dare problemi quindi se non so se avete visto anche con i feed del blog spesso e volentieri non vi arrivano google distrugge tutto e ho paura che distrugga breve anche blogger la piattaforma che utilizzo per il sito quindi fino alla fine devo cercare di migrare verso qualche alternativa prima che google mi costringa a migrare l'ultimo secondo perché ha deciso così vabbè rip google stadia e grazie google per averlo almeno sbloccato la possibilità di giocare tramite bluetooth ah dimenticavo funziona perfettamente il controllo di google stadia se avete acquistato il servizio xbox cloud gaming e quello funziona senza trucco e senza inganno cioè praticamente tramite browser vi collegate tramite cioè attivate bluetooth collegate il controllo tramite bluetooth e ci giocate che è una meraviglia l'ho provato l'altro giorno che è venuto mio nipote con il suo abbonamento google cioè il suo abbonamento di microsoft dell'xbox funziona a parte il solito input lag che si ha con i controller bluetooth quindi se siete appassionati di giochi competitivi fps non utilizzate un controller bluetooth e soprattutto non utilizzate il controller bluetooth di google stadia ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 139esima puntata del podcast di marco's box come sempre vi ricordo di seguirmi sulle varie piattaforme social mi trovate praticamente ovunque sono come il prezzemolo sul blog trovate i vari link alle mie varie vite online mi trovate recentemente anche su mastodon1 quindi se siete se siete anche voi fuggiti da twitter mi trovate anche lì potete utilizzarlo attualmente lo utilizzo come per ripostare le notizie del blog quindi ho potuto utilizzare come alternativa al vostro lettore di feed prometto in futuro di essere più attivo su mastodon attualmente mi ripeto mi limito soltanto a utilizzarlo in questo modo in questo modo mastodon e mi limito anche a allurcare i contenuti altrui vi ricordo poi che sono presente su telegram con un canale dedicato quindi con tutte le notizie con una community telegram nella quale potete iscrivervi e parlare di tutto non soltanto di argomenti del software libero open source trovate poi un canale telegram dedicato alle offerte amazon acquistando dal mio codice referral che trovate anche sulle pagine di marcosbox pubblicizzato potete supportare il blog infine vi ricordo che potete supportare anche il blog acquistando una vpn dai link referral che trovate sul blog potete acquistare dai servizi di nordvpn surfshark e altre su vpn che fanno parte di tutte della stessa famiglia hanno tre peculiarità differenti di queste tre vpn su marcosbox trovate un articolo che va a spiegarvi quali sono le differenze tra queste tre vpn e vi aiuta a scegliere quello che fa per voi lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo spero la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcosbox ciao ciao